Il momento del capitano, del nostro capitano, del simbolo di Roma, del gladiatore giallorosso, del vipo d'oro, con il numero 10, Francesco! Francesco Totti nasce il 27 settembre 1976 a Roma. Inizia a giocare a calcio fin da piccolo. La sua prima squadra è la Lodigiani, dove gioca dall'età di 7 fino a 12 anni. Fino a quando la sua squadra raggiunge un accordo con la Lazio, ma un blitz all'ultimo momento convince Francesco a scegliere i colori giallorossi, scatenando così un incidente diplomatico tra le tre società coinvolte. Il ragazzo dimostra di possedere un talento purissimo e nella stagione 1992-1993 esordisce in Serie A con la squadra capitolina, dove ancora adesso gioca e sta per concludere il suo 24esimo campionato. Due stagioni dopo diventa un giocatore fondamentale per la Roma, nonché titolarissimo. Presto diventa un punto di riferimento e veste la maglia numero 10, considerata da sempre come la più importante nella storia del calcio. Nel 1998 gli viene assegnata la faccia di capitano, che non abbandonerà mai. Viene soprannominato Erpupone dal pubblico romanista, un modo affettuoso per descrivere un ragazzo giovanissimo di un talento incredibile. Nella stagione 1999-2000 vince il premio come miglior giocatore giovane della Serie A. Successivamente la Roma acquista altri due calciatori importantissimi, Gabriel Battistuta e Vincenzo Montella, che insieme a Francesco formano il cosiddetto Trio delle Meraviglie. Alla fine del campionato la Roma si laurea campione d'Italia e vede Capitan Totti come protagonista assoluto. Nella stagione 2004-2005, nonostante un campionato deludente per la squadra giallorossa, Francesco supera un altro record, diventando così il miglior canoniere della Serie A della Roma. L'anno 2005 è una data importantissima per lui, perché si sposa con Ilari Blasi, futura famosissima conduttrice televisiva, come dimostrano i suoi otto anni consecutivi nella trasmissione di Le Iene. L'anno dopo compie un gesto che passerà alla storia del calcio, il cosiddetto cucchiaio. Segna un gol di palonetto contro l'Inter da fuori aria, partendo palla al piede da centrocampo. Questo bel gesto tecnico del capitano della Roma fa alzare in piedi ed applaudire tutto il pubblico di San Siro. Lo stesso effetto sugli spettatori, Francesco lo scatena realizzando un gol con un tiro al volo contro la Sampdoria. Ancora una volta riceve gli applausi di tutti i presenti allo stadio Ferraris di Genova. A fine stagione si laurea capo canoniere della Serie A e vince la Scarpa d'Oro come attaccante più prolifico d'Europa. Con la nazionale, Francesco ottiene un altro strepitoso successo, vincendo i mondiali del 2006. Protagonista di prestazioni impeccabili, nonostante sia a reduce da un lungo infortunio. Viene premiato dalla FIFA come uno tra i 23 migliori giocatori partecipanti al torneo. Negli anni successivi, Francesco Totti continua a dimostrare il suo talento, sfornando gol e assist a dir poco spettacolari. Supera vari record, come calciatore più anziano ad aver segnato in Champions League. Con i suoi 38 anni, calciatore ad aver realizzato più gol con lo stesso club, ad aver realizzato più doppiette e unico nella storia ad aver raggiunto la doppia cifra con la stessa maglia per nove campionati consecutivi. Calciatore con più presenza e gol con la Roma e secondo miglior marcatore della storia del campionato italiano. Nonostante la sua età, Francesco Totti continua ad essere fondamentale per la squadra, perché riesce a trasmettere sicurezza ai compagni e ad ogni suo tocco, grazie ad un notevole visione di gioco, risulta imprevedibile ed efficace. Ed è questo che fa di lui un grandissimo giocatore, come dimostra la sua ultima partita contro il Torino, dove all'Olimpico la Roma si trova in svantaggio per due reti a uno, ma Totti, subentrato all'88esimo, in solo due minuti di gioco riesce a mettere a segno una doppietta, ribaltando così il risultato per 3 a 2, mandando tifosi giallorossi in visibilio. La leggenda di Francesco Totti verrà sicuramente raccontata a figli e nipoti, perché in fondo lui è un po' il capitano di tutti noi, perché lui è Francesco Totti, il capitano.